Potente a par ragazzi, qua Vax, Logi Omega, oggi sono a sole e sono qui a presentare il mio nuovo video Che ragazzi, se devo essere sincero, è un video che sorprende anche me Perché io oggi vi avevo detto sulla pagina Facebook che non vi avrei caricato nessun video Però è successa una cosa, ho visto che a un macello di gente, o meglio forse anche a tutti gli utenti di FIFA Ultimate Team La EA ha fatto questo regalo, cioè si è sentita veramente generosa Ci ha regalato 5 pacchetti in omaggio, quindi ho detto, eh no, eh no, eh no Io non ho molto tempo oggi per fare un video, però ho quei 5-10 minuti di pausa che mi danno la possibilità di farlo In più posso farlo direttamente dal PC, dato che sono pacchetti normali E ho detto, mamma mia, questa occasione è da sfruttare e quindi noi l'andremo a sfruttare Comunque ragazzi, se volete comprare credito vi ricordo di passare da VivaCoinStash Il link lo troverete in descrizione E poi vi volevo ringraziare per tutti i mi piace messi sul pink pale di figo Perché abbia raggiunto i 3.700 mi piace Adesso ragazzi sto un attimo decidendo che cosa fare Intanto apro il primo pacchetto per i 40.000 iscritti Perché erano 3 le idee principali Abbiamo trovato un grandissimo 76 Buono Madonna, sono i pacchetti belli questi Oddio Ehm... Non mi ricordo più cosa stavo dicendo Cosa abbastanza ambigua No, ecco, erano 3 i video principali che avreste voluto vedere Allora, il Fak you time Poi un video Buono E io devo venderlo per forza Un video in cui giocavo a calcio Però, eh, preferisco magari aspettare un attimo per farvelo E poi un video su Omegol o Chatroulette E io ho detto Mamma mia Ma che idee magiche Quindi adesso andrò un attimo a scegliere meglio Perché magari quella del, appunto, io che gioco a calcio Magari anche con Marco Sinzi 58 e Carmi 9 Ve la faccio vedere Ehm... Come si dice Verso i 50 Mi ha scritto appunto perché stiamo anche aspettando Che esca sempre un po' di più il sole Dato che spesso e malvolentieri c'è la pioggia E quindi detto questo Io ho detto tutto E abbiamo aperto due pacchetti Non abbiamo trovato assolutissimamente nulla Fatemi sapere se vi avete trovato qualcosa E neanche qua Mamma mia Ehm... E se avete trovato qualcosa Ragazzi, io sono veramente felice per voi Un... Ah, sì, un'altra cosa Mi sono ricordato di dirvi Perché ragazzi Io, come ho già detto Oggi non dovevo caricare un video Avevo in mente di caricarvi domani Un mega pack opening Perché appunto Mannaggia la salsiccia Non troviamo nulla Avevo intenzione di Ehm... Farvi magari un due o tre episodi Di questo mega pack opening Dato che il team of the week nuovo È veramente magico L'unica cosa Cioè non può definirsi magico Buono Cioè qua Ma che schifo Io li ho aperti così velocemente Perché credo di averli anche sugli altri account Comunque vi stavo dicendo Che l'unica cosa È che manca il divino Johnny Manca il divino Johnny E quindi noi non potremo andare a fare il pink pal Io ragazzi Adesso vedo Magari vi vendo i due figo E vi vado a farmessi Però questo è tutto da vedere ancora Ragazzi Sono entrato in un altro account E per un motivo A me è ignorissimo Ho trovato 11 pacchetti Al posto di 5 Quindi è una cosa Mi sembra Stratattica La EA Ci vuole far trovare qualcosa Oggi si è sentita Veramente Generosa Perché dopo che la gente Gli regala miliardi Di soldi Per aprire dei pacchetti Noi troviamo Anelka Madonna E appunto Siete cise magari a fare questi regali Speriamo che si siano un po' più frequenti Diciamo E andiamo avanti Ragazzi Credo che dopo questi 10 pacchetti Io chiuderò il video Non stiamo trovando assolutamente nulla Da che palle Oh 8 pacchetti ancora Non è possibile Che in 8 pacchetti Non troviamo nulla Almeno stavolta Non paghiamo nulla noi Che poi la cosa tattica Che se loro ti fanno trovare qualcosa Non ti danno la possibilità Di venderla Quindi è anche una cosa Un po' poco tattica Quindi LOL Allora Questo pacchetto Questo qua Dai Dai No Cazzano Cazz Cazz Feinsteiger In forma E Retro Antony Cross Cruz Crass Kraken No Ancora 3 pacchetti Che palle La speranza però ragazzi È l'ultima a morire La speranza Farfan Valutato 83 Stiamo trovando Stiamo trovando giocatori valutati abbastanza Che però Non valgono nulla Che a parte non si possono neanche vendere Quindi non vedo Dove sia l'utilità Salta No Oddio C'è 85 Turano 84 Bisevac O Bisevac 78 Non mi ricordo già più quant'è Ma niente In forma Ragazzi Ultimo pacchetto Ultimo pacchetto Andiamo a vedere Boom Ragazzi Sono un burlone E ho Ho avuto Appunto Come sapete Io ho un macello di account Quindi ho altri 5 pacchetti Non so perché Non sono più 11 Ma trunk Oh Busquets Un altro 85 Ragazzi Stiamo trovando giocatori troppo buoni Che non possiamo neanche vendere Quindi dobbiamo trovare un in forma Tanto non li posso vendere Fatemi trovare Messi Non lo posso neanche più impalare Credo Se non posso darlo a nessun altro Ma lol Dai 3 pacchetti Dai 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 Oddio Non troviamo ancora nulla Un macello di giocatori Però Nulla di importante Vai Oh 2 pacchetti Ancora Via 83 Anche lui che ha battuto il Milan Dai Ralph Ralph Negozio Dai Oh ultimo pacchetto Ultimo pacchetto Mamma mia Non troviamo nulla Ragazzi Sono un burlone Se stavate veramente credendo Che fosse l'ultimo pacchetto Ai 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 Comunque Adesso Andiamo ad aprire Gli altri 5 pacchetti Su un altro account Dai Vediamo Salta Oh Andiamo a prendere un altro Mamma mia Quanti pacchetti Stavamo aprendo Non ne ho idea Alaba Buono Rossi Va bene Dai 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 Andiamo avanti Andiamo avanti Mamma mia Non troviamo nulla Oh Un informa Cioè Quanti pacchetti abbiamo aperto 5 10 20 Cioè È il 24esimo pacchetto Mi sa questo Bua Tengvaran Ma non valete Dai Dai Oh 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 Dai 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 Mamma mia Dimmi celis Oddio Oddio Oh Oh Peralta Buono Ragazzi Non finirà qua Il pack opening Wow Non mi fa più accedere Mi avranno bannato Perché ho aperto Troppi pacchetti Lol Ragazzi Non vorrei dire qualcosa Ma mi sa che è un reato Avere più di 5 account Quanti ne avevo Su FIFA Ultimate Team Perché adesso Non mi fa neanche più entrare Quindi mi sembra una cosa Abbastanza tattica E E vabbè Io intanto vi saluto Qua speriamo che si risolva Tutto al meglio Sennò sono Cavoli amari Se possiamo così definirli E ragazzi Detto questo Spero che questo Mega giga Pack opening Vi sia piaciuto E vi ricordo Di lasciare un mi piace Vi ringrazio per tutte le cose E ragazzi Passateci dalla pagina Facebook Perché sto per fare Un giveaway Della partita di stasera Di Manchester United Contro Olympiagoz E quindi Detto questo Vi saluto E vi dico potente A palazzi Nel prossimo video Bolla Grazie a tutti